buongiorno e benvenuti al terzo giorno del nostro summer camp la tappa di oggi del nostro viaggio è il sistema solare e ne parleremo assieme a Alessia ricercatrice dell'INFN di Pavia se avete domande scriveteci un'email all'indirizzo che abbiamo riportato nella descrizione del video Alessia te la parola ciao bambini oggi nelle nostre giga nano vacanze viaggeremo all'interno del sistema solare scopriremo i pianeti che lo compongono e come sono diversi tra di loro al termine della del nostro viaggio spaziale quando avremo scoperto tutte le caratteristiche dei pianeti del sistema solare costruiremo un modellino di sistema solare utilizzando la frutta e creeremo una vera e propria macedonia spaziale ma iniziamo subito voglio subito presentarvi i protagonisti di questo racconto ecco qua i pianeti del sistema solare fare il sistema solare è molto semplice basta prendere il sole otto pianeti un pizzico di asteroidi e satelliti quanto basta ma come vedremo questi pochi ingredienti forniscono un sistema molto diverso tra di loro abbiamo andiamo per ordine abbiamo a sinistra il sole come potete vedere poi abbiamo mercurio venere la terra marte poi abbiamo la fascia degli asteroidi e poi abbiamo giove saturno urano e nettuno molti di voi magari penseranno si immagineranno un pianeta come una sfera di roccia un po simile alla nostra terra ma non tutti i pianeti sono fatti così infatti ci sono alcuni pianeti simili alla terra che sono detti pianeti rocciosi sono delle sfere formate di roccia ma ci sono anche dei pianeti che sono degli enormi palle di gas e come vedremo nel nostro sistema solare avremo sia pianeti rocciosi che pianeti gassosi in particolare mercurio venere la terra e marte sono i pianeti rocciosi e sono anche più piccolini mentre più grandi giove saturno urano e nettuno sono dei pianeti gassosi questi pianeti quindi non hanno una superficie come la terra su cui possiamo camminare sono formati da una palla di gas principalmente elioidrogeno ma come vedremo su alcuni sono presenti anche dei ghiacci ma la prima cosa che vi voglio raccontare del sistema solare e dei suoi pianeti è che i pianeti del sistema solare sono dei ballerini impariamo e scopriamo insieme il ballo che fanno i pianeti nel sistema solare addirittura dovremo imparare ben due balli c'è il primo ballo che si chiama ballo di rivoluzione infatti i pianeti del sistema solare ruotano tutti intorno al sole come potete vedere in questo disegno abbiamo il sole e tutti i pianeti li girano attorno il percorso che i pianeti fanno intorno al sole sprende il nome di orbita quindi l'orbita per esempio della terra è questa qua come potete vedere l'orbita della terra e dei pianeti del sistema solare non è perfettamente un cerchietto come potete vedere qua ma è un'ellisse un cerchietto un pochettino schiacciato ricordano appunto le palle da rugby non so se qualcuno di voi gioca a rugby ma non finisce qua perché i pianeti non fanno solo il ballo di rivoluzione i pianeti fanno anche un altro ballo fanno il ballo di rotazione infatti i pianeti man mano che girano intorno al sole fanno una rotazione su se stessi come se facessero tante pirouette quindi riassumiamo velocemente i pianeti del sistema solare girano tutti intorno al sole e fanno quindi un ballo di gruppo il moto di rivoluzione è quindi il ballo di gruppo che i pianeti fanno intorno al sole questi pianeti si muovono su un percorso che si chiama orbita ed è un'ellisse man mano che si muovono però i pianeti girano anche su se stessi facendo tante piccole pirouette ma torniamo un attimino sulla terra che è il pianeta che meglio conosciamo sicuramente sapete che anche la terra essendo un pianeta del sistema solare fa un giro su se stesso e il tempo che la terra impiega per compiere un giro su se stesso è di 24 ore una giornata man mano che la terra ruota intorno al sole ci vuole un anno quindi il tempo in cui la terra fa un giro intorno al sole è l'anno e noi sappiamo che l'anno è formato da 365 giorni soprattutto ce lo ricordiamo quando a natale o al nostro compleanno dobbiamo aspettare altri 365 giorni per ricevere altri regali ma vedremo che la durata del giorno e dell'anno non è così su tutti i pianeti infatti questi pianeti si muovono tutti in maniera diversa ma questo lo scopriremo strada facendo ora però conosciamo di meglio questi pianeti e guardiamo le loro carte di identità dei pianeti dobbiamo partire dal più piccolo e dal più vicino al sole mercurio mercurio come vi dicevo è un pianeta roccioso come potete vedere in questa immagine mercurio assomiglia un pochettino alla nostra luna infatti su mercurio sulla superficie di mercurio sono presenti dei crateri e delle enormi scarpate che sono state create dal collisione e sono create tutt'oggi dalle collisioni di asteroidi sulla superficie dovete sapere che mercurio è il pianeta dove c'è la maggiore escursione termica per esempio non so da voi quanto che temperatura ci sia qua più o meno a pavia ci saranno circa 30 gradi durante il giorno su mercurio durante il giorno ci sono addirittura 427 gradi quindi fa veramente molto caldo ma di notte su mercurio ce ne sono meno 173 non so voi io non vado spesso in montagna però in montagna essendoci la neve fa fresco magari capita di andare anche sotto lo zero ma qualche grado non 173 qui su se andate su mercurio dovete portarvi vestirvi di sicura cipolla perché fa molto caldo e molto freddo di notte ora saltiamo invece sul secondo pianeta andiamo su venere venere è il secondo pianeta del sistema solare ed è anche quello più vicino alla terra bambini dovete sapere che venere è talmente luminosa che spesso viene scambiata per una stella infatti a volte la potete vedere al mattino presto prima dell'alba o subito dopo il tramonto infatti gli antichi greci e poi romani l'avevano chiamata stella del mattino stella della sera ma in realtà venere un pianeta e come tutti i pianeti riflette la luce del sole ma venere è particolare perché su venere il clima è molto nuvoloso sono presenti infatti un sacco di nubi e queste nubi riflettono molto la luce del sole e questo rende il pianeta venere il pianeta molto un pianeta molto luminoso tant'è che è molto ben visibile anche dalla terra nelle nelle belle giornate venere come potete vedere ha questo colore giallonio loro sastro la superficie di venere presenta dei deserti anche delle montagne è un pianeta appunto roccioso ora invece arriviamo sul nostro pianeta la terra la terra è il terzo pianeta del sistema solare è quello che ovviamente conosciamo meglio e soprattutto il vantaggio della terra è di trovarsi in una posizione molto ambita infatti la terra si trova nella fascia di abitabilità del sistema solare la terra grazie all'acqua presente sulla superficie e alla sua atmosfera infatti ha permesso lo sviluppo della vita quindi siamo stati molto fortunati ad avere la terra ovviamente la terra come come vi dicevo prima è un pianeta roccioso e sono presenti appunto montagne deserti pianure e in più la terra ha un'amica un satellite che cos'è un satellite un satellite è un corpo che orbita che gira intorno alla terra e se vogliamo le tiene compagnia soprattutto a noi tiene compagnia durante la notte ed è la luna probabilmente in queste serate l'avete visto è molto luminosa ora abbandoniamo la terra e ci spostiamo sull'ultimo pianeta roccioso che è Marte Marte è il quarto pianeta del sistema solare e viene anche chiamato pianeta rosso perché Marte ha questo colorito rossastro dovuto al fatto che sulla superficie di Marte sono presenti degli ossidi di ferro mi direte che cos'è l'ossido di ferro avete presente il ferro se guardate del ferro molto vecchio spesso fa la ruggine che è un colore rossastro questo colore rossastro è presente negli ossidi di ferro e caratterizza Marte lo fa diventare un pianeta rossastro Marte è il pianeta come poi forse scoprirete meglio nella seconda puntata di oggi è il pianeta con le condizioni ambientali più simili alla terra però su Marte fa molto freddo per esempio le temperature su Marte vanno da meno 14 gradi di giorno nell'estate scusate a meno 120 gradi l'inverno quindi le temperature sono molto fredde l'atmosfera non è respirabile e il problema è che su Marte non è presente l'acqua sotto forma liquida infatti è solo presente sotto forma di ghiacci come potete vedere poi Marte ha non una luna ne ha addirittura due si chiamano Deimos e Phobos che in greco che questo nome è stato dato dai greci che vuol dire demone e terrore che appunto accompagnavano il dio Marte della guerra ora ci spostiamo dai pianeti rocciosi li salutiamo abbiamo una fascia di asteroidi e arriviamo su Giove Giove è il quinto pianeta del sistema solare è il pianeta più grande è un pianeta come vi dicevo gazzoso è formato da una palla di gas e come potete vedere ha dei colori meravigliosi infatti su Giove sono presenti delle nubi che si stratificano che formano appunto delle fasce di diverso colore queste nubi sono spinte da dei venti fortissimi fino a 600 km all'ora questi venti formano dei vortici e questi vortici formano delle macchie come potete vedere qua di colori meravigliosi Marte è proprio molto bello inoltre Marte non ha solo una luna ne ha addirittura 79 i satelliti, scusate non Marte Giove i satelliti di Giove sono tantissimi e sono noti già dall'antichità col tempo ne abbiamo scoperto un numero maggiore ma considerate che i quattro satelliti di Giove più grandi sono stati già visti dallo scienziato Galileo nel 1600 recentemente però una quarantina di anni fa grazie alle missioni spaziali e ai telescopi ci siamo anche resi conto che Giove ha presenti degli anelli molto probabilmente questi anelli raggruppano un po' di polvere un po' di piccoli satelliti che orbitavano intorno a Giove e si sono frantumati ma arriviamo ora sul sesto pianeta Saturno Saturno è il secondo pianeta per grandezza dopo Giove molti di voi lo conosceranno e l'avranno magari già visto perché è famoso per i suoi anelli i suoi anelli sono molto belli sono molto larghi e molto ben visibili e sono principalmente molto luminosi molto di più rispetto a quelli di Giove e degli altri pianeti perché gli anelli di Saturno che vedete sono composti a loro volta da anelli più sottili che riflettono molto bene la luce inoltre Saturno ha un altro record Saturno detiene il maggior numero di satelliti ne ha ben 82 82 lune a Saturno è simile a Giove come vi dicevo è un pianeta gassoso anche in questo caso è percorso da fortissimi venti che appunto soffiano fino anche a 600 km come potete vedere il colore di Saturno è più o meno giallognolo giallo verdastro un pochettino sul blu e appunto anche qua sono presenti delle nubili ma appunto la particolarità di Saturno sono i suoi magnifici anelli ora saltiamo da Saturno al settimo pianeta solare il settimo pianeta solare è Urano Urano se vogliamo è il fratellino minore di Saturno o di Giove è un pianeta gassoso ma rispetto a Saturno e Giove su Urano sono presenti anche dei ghiacci infatti questi pianeti vengono anche chiamati pianeti ghiacciati quindi immaginatevi come una palla di gas, idrogeno ed elio e ghiacci per esempio di acqua e di ammoniaca Urano ha anche lui un sistema di anelli sono molto meno luminosi di quelli di Saturno e possiede 27 satelliti 27 lune e arriviamo ora sull'ultimo pianeta Nettuno Nettuno è l'ottavo pianeta ed è il più lontano dal Sole Nettuno è un pianeta gassoso è il fratello gemello se vogliamo di Urano è un pochettino più piccolo ma ha la stessa simile composizione infatti anche su Nettuno sono presenti oltre a gas come idrogeno ed elio anche i ghiacci anche Nettuno ha un sistema di anelli e ha 14 satelliti abbiamo visto un po' velocemente perché qua ci sarebbe da parlare per intere giornate per ogni singolo pianeta un pochettino le caratteristiche principali è un po' velocemente Alessia 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 mi senti? Ok adesso sistemiamo un attimo abbiamo, mi sa, un problema di audio adesso sistemiamo subito ok bambini un attimo di pazienza che adesso Alessia si ricollega intanto vi ricordo che se avete delle domande potete scriverci all'indirizzo email che trovate nella descrizione del video e che se vi fa piacere vi invitiamo a partecipare al questionario che abbiamo preparato per chiedervi che cosa vi è piaciuto di più di questo nostro Summer Camp inoltre vi ricordo anche che se vi fa piacere potete preparare un disegno su uno o più degli argomenti che vi è piaciuto di più e che stiamo vi stiamo presentando in questi giorni ecco Alessia ok mi sentite? molto meglio sì sì ti sentiamo ok scusate scusate probabilmente era si sono scaricate le cuffie perfetto allora per fortuna avevamo appena finito di vedere le singole carte di identità dei singoli pianeti come abbiamo visto i pianeti sono tutti diversi tra di loro in questo disegno potete vedere in questo disegno vi ho riportato i pianeti e abbiamo detto che abbiamo Mercurio Venere Terra che sono pianeti rocciosi mentre Giove Saturno Urano Nettuno sono i pianeti gassosi ma prima vi avevo parlato del moto di rivoluzione e il moto di rotazione ossia il ballo di gruppo intorno al sole dei pianeti il moto di rivoluzione e il moto di rotazione le pirouette che i pianeti fanno su se stessi guardiamo un pochettino quanto durano sui singoli pianeti per esempio sappiamo che per fare una rotazione su se stessa la Terra impiega 24 ore Marte ci mette più o meno 24 ore e 37 minuti quindi il giorno marziano è molto simile al giorno sulla Terra ma guardate come variano i numeri sugli altri pianeti per esempio Mercurio ci mette 59 giorni a ruotare su se stesso Venere 243 mentre invece i pianeti gassosi quelli più grandi ci mettono pochissimo tempo per esempio Giove Saturno si mettono circa 10 ore mentre Urano e Nettuno ce ne mettono 16 17 ma guardiamo invece quanto è lungo un anno sugli altri pianeti quindi guardiamo la rivoluzione il tempo di rivoluzione noi sappiamo che sulla Terra per fare un intero giro intorno al Sole ci mettiamo 365 giorni Mercurio che è il pianeta più vicino al Sole ci mette soltanto 88 giorni Venere ci mette 224 giorni su Marte invece l'anno è circa è quasi il doppio di quello sulla Terra ci mette 687 giorni ma guardate come girano lentamente i pianeti giganti gassosi come Giove ci mette 12 anni Saturno addirittura ce ne mette 29 Urano 84 che è più o meno la nostra vita e Nettuno ci mette 164 anni dovete sapere che Urano l'abbiamo scoperto abbastanza recentemente rispetto agli altri pianeti e da quando l'abbiamo scoperto abbiamo visto soltanto due rivoluzioni complete di Urano quindi l'abbiamo scoperto circa 160 anni fa ma i pianeti sono molto diversi tra di loro come potete vedere anche dal disegno non soltanto per la loro composizione se sono rocciosi gassosi se girano più o meno velocemente su se stessi intorno al Sole ma sono diversi anche nella taglia in questa immagine potete vedere la taglia dei pianeti come taglia del pianeta come numerini più è riportato il diametro che cos'è il diametro? allora immaginiamo di avere un pianeta il mio pianeta è una sfera in questo caso un bel limone se noi tagliamo questa sfera in due otteniamo due parti e il diametro non è nient'altro che questo vedete il filino bianco è questa distanza tra qua e qua quindi il diametro ci dice quanto è grande la nostra pallina il nostro pianeta vi avevo detto che Mercurio è il pianeta più piccolo del Sistema Solare infatti Mercurio ha un diametro solo di 4880 km confrontiamolo con quello della Terra la Terra a noi sembra molto grande infatti è abbastanza grande ci vuole tanto tempo per visitarla tutta la Terra ha un diametro di 12 km Venere è un pianeta molto simile alla Terra come dimensioni infatti ha un diametro di 12.104 km ma guardiamo Marte Marte addirittura è circa la metà della Terra ma se confrontiamo tutti i pianeti rocciosi quindi Mercurio Venere Terra e Marte con i pianeti giganti gassosi come Giove Saturno Urano guardate i numeri come cambiano Giove che è più grande è 142 984 km Saturno è 120 km Urano e Nettuno invece sono più piccolini e sono 50 km 1000 km ma confrontiamoli con la Terra sono enormemente grandi rispetto alla Terra ora vorrei mostrarvi come possiamo costruire un sistema solare e quindi riprodurre le singole tale dei diversi pianeti per renderci meglio conto dell'enorme differenza tra i pianeti che c'è quindi quello che ora faremo come vi avevo promesso è la ricetta della Macedonia spaziale ora ci vuole un minutino perché dovrò spostare la webcam e mi posizionerò sul tavolo perché faremo la parte più sperimentale grazie grazie ok come potete vedere ora ci siamo posti sul tavolo e ora proveremo a ricreare il sistema solare partendo da questo scatolone che come potete vedere dopo contenerà tutti i pianeti del sistema solare quindi partiamo Alessia scusami potresti alzare un po' la webcam sì vi faccio vedere lo scatolone grazie mille questo è lo scatolone della frutta spaziale ora ci posizioniamo sul tavolo perché così vediamo meglio il nostro sistema ok così dovreste riuscire a vedermi meglio perfetto allora dobbiamo partire dal primo pianeta il primo pianeta abbiamo detto essere mercurio ripassiamo un pochettino mercurio è un pianeta roccioso ed è il più piccolo e il più vicino al sole quindi considerate che qua c'è il sole questo è mercurio ve lo faccio vedere nella mia mano vi chiederete che cos'è? è un granello di pepe perché mercurio come vi dicevo è molto piccolino e lo posizioniamo qua sul tavolo ricordatevi che è qua ora invece abbiamo Venere e la Terra Venere e la Terra sono due pianeti simili tra di loro come dimensioni e li possiamo rappresentare con delle ciliegie vediamo quindi qua Venere la ciliegia la Terra è leggermente un po' più grande ed è questa ciliegiona qua e la posizioniamo qua quindi mercurio granello di pepe Venere e Terra che sono due ciliegie e indovinate che cos'è Marte Marte vi avevo detto che è circa la metà della Terra Marte è un piccolissimo mirtillo e lo posizioniamo qua ora invece partiamo con i pianeti giganti e i giganti gassosi Giove è il pianeta più grande di tutti e sarà indovinate che cos'è? un'anguria questo vi fa capire quanto è grande Giove Giove è la nostra anguria Giove è il più grande di tutti e come potete vedere contiene un sacco di Terra al suo interno come se confrontiamo la nostra ciliegina con il gigante Giove noi siamo proprio su un pianeta piccolissimo passiamo ora a Saturno Saturno invece è un grande pompelmo e lo posizioniamo qua anche lui è un pianeta gigante gassoso e guardiamo sempre la proporzione con la Terra sempre piccolina questa Terra arriviamo ora che cosa avviene dopo dopo Saturno immaginatevelo con i suoi anelli che girano intorno al pompelmo abbiamo Urano e Nettuno Urano usiamo una Nela spostiamo un po' più in qua e infine Nettuno sarà un limone come potete vedere questo ci fa vedere come la nostra Terra in realtà ho preso venere scusate ma sono simili è molto più piccola di tutti gli altri pianeti ovviamente io ve li ho messi tutti vicino ai pianeti ma questi pianeti non sono così vicini se consideriamo appunto la Terra grande come questa nostra ciliegia il Sole sarebbe molto distante da noi circa mezzo chilometro ed è una palla di circa 4 metri quindi il Sole è di gran lunga più grande anche del nostro piccomero che è Giove quindi ora abbiamo visto come creare una Macedonia spaziale e magari molti di voi si chiederanno come possiamo mettere del pepe nella Macedonia io adesso ho utilizzato questo granello di pepe ma molto probabilmente Mercurio sarà grande più o meno come un semino della vostra anguria quindi come un semino dell'anguria di Giove ora invece torniamo alle slide e eccomi di nuovo qua con voi scusate ho perso il mouse nel frattempo bello della diretta che funziona tutto così molto artigianalmente allora abbiamo creato la Macedonia spaziale riguardiamo una ricetta insieme abbiamo Mercurio che è un granello di pepe poi abbiamo Venere la Terra che sono grandi uguali sono due ciliegie Marte è un piccolo mertillo mentre Giove è un enorme anguria io tra l'altro avevo trovato un'anguria piccolina ed era più comoda da portarvi ma se trovate un'anguria più grande potete fare per esempio Giove un grande cocomero e Saturno anziché un pompelmo utilizzare magari un melone giallo poi Urano è una mela e Nettuno è online ovviamente come tutte le ricette questa è la mia ricetta voi potete spizzarrirvi e crearne di vostre per esempio anziché un lime o un limone potreste utilizzare un albicocca e Urano farlo diventare una pesca ovviamente potete utilizzare la frutta che più vi piace e quindi io ora vi saluto e vi chiedo di mandare la foto di realizzare la vostra macedonia spaziale di inviarci la foto e ovviamente poi dopo dovete gustarvi il sistema solare un saluto a tutti grazie per avermi accompagnato in questo viaggio nel sistema solare grazie mille Alessia grazie mille per averci dato questa ricetta per preparare la nostra macedonia spaziale vi ricordo che se avete domande per Alessia ci potete scrivere per email e vi do appuntamento fra pochissimo alle 10 e 40 con il prossimo racconto a fra poco a fra poco